Stabatate, doloroso Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo Gesù disse «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo». Gesù rispose «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli «Andiamo anche noi a morire con lui». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse «Tuo fratello risorgerà», gli rispose Marta. «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose «Sì, oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole andò a chiamare Maria, sua sorella, ed inascosto le disse «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli «Signore, se tu fossi stato qua, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato, domandò «Dove lo avete posto?» Gli dissero «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei «Guarda come lo amava!» Ma alcuni di loro dissero «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù «Togliete la pietra!» Gli rispose Marta, la sorella del morto. «Signore, manda già cattivo odore, è lì da quattro giorni!» Le disse Gesù «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio!» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato!» Detto questo, gridò a gran voce «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro «Liberatelo e lasciatelo andare!» Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che gli aveva compiuto credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riorinano il sidedrio e dissero «Che cosa facciamo?» Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro «Voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?» Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Pace bene amici e ben ritrovati a questo nostro appuntamento consueto con la liturgia festiva quinta domenica di Quaresima, secondo il rito ambrosiano, ma in questa occasione, in questa quinta domenica, i due ritti, almeno per quanto riguarda il Vangelo, coincidono. La risurrezione di Lazzaro, o meglio, la rianimazione di Lazzaro. Gesù si trova lontano, gli mandano a dire che il suo amico è ammalato, ma lui tergiversa e afferma che questa morte, malattia, non è per la vita e non per la morte. E tergiversa perché si manifesti la gloria di Dio. Che cosa succede? Che dopo qualche giorno il Signore si reca dalla famiglia con la quale è molto amico, Lazzaro? Lazzaro, Marta sono suoi confidenti. La sera prima, qualche sera prima di morire, andrà a cenare proprio da loro e si farà consolare, almeno questa amicizia, la consola in un momento drammatico, faticoso, terribile della sua vita. Perché tergiversa? Perché si manifesti la gloria di Dio. che cosa vuol dire questa espressione? Vuol dire che Lazzaro diventa il segno di quello che succederà a lui stesso. Non farà finta di morire, ma morirà sul serio. E il padre, di cui è il figlio unico prediletto, lo lascia morire. E Gesù lascia, permette che questo amico Lazzaro attraversi, faccia l'esperienza della morte. Perché il Signore ci lascia lì a crogiolare quasi, ma non è un gioco satanico, beffardo, ma ci lascia crogiolare molte volte nella nostra fatica e nella nostra morte, perché Lui non ci salva dalla morte, ma nella morte. Nella morte. Che significa questo? Significa che la nostra libertà, ormai viziata, ferita dal peccato, sceglie continuamente una via che porta alla morte. E siccome Dio è libero, ma lascia liberi, lascia liberi sul serio fino in fondo anche ciascuno di noi. Ci fa fare l'esperienza di che cosa significa stare lontano da Lui. Perché il peccato crea una barriera, un solco, un precipizio, un ostacolo molto impervio tra Lui e noi. Rispettoso della nostra libertà, ci lascia fare, permette persino che noi compiamo il peccato, le cose più assurde di questo mondo, basta pensare alle guerre, e poi ci salva dentro questa libertà che ha scelto in un modo errato e scegliendo in un modo errato si trova a vivere lontano da Dio. questa nostra libertà trascina l'umanità, se questa libertà viene utilizzata male, trascina l'umanità e ciascuno di noi quindi verso la morte e Dio è rispettoso. E il Figlio poi essendo uomo, completamente uomo, venendo e entrando dentro la nostra situazione di peccato di morte anche se Lui non ha peccato, il Padre permetterà che la morte raggiunga anche il Figlio. Ma Lazzaro diventa il segno di una risurrezione. È l'anticipazione, è un messaggio che attraverso questo miracolo Gesù lancia ciascuno di noi, non nel senso che strumentalizza la morte di Lazzaro perché piange poi, ma è un messaggio rivolto agli apostoli, a tutti i suoi confidenti, a ciascuno di noi adesso, noi cristiani che dovremmo seguirlo, è un messaggio che ci dice qualche tu magari stai male, soffri, soffri a causa del peccato che hai compiuto, di un cattivo, pessimo utilizzo della tua libertà, stai soffrendo, io ti permetto di fare quello che vuoi, la tua libertà è vera, autentica, io non mi permetto di introdurmi nelle tue libere scelte, però sappi che se adesso stai male è per colpa tua perché il peccato e la morte, la malattia e il dolore sono entrati nella storia a causa del peccato di ciascuno di noi, da Adamo e Deva in poi, però il Signore ci fa capire che ci salva dalla morte, ma non che ci dispensa dalla morte, ma ci salva meglio nella morte. Il Signore amava Lazzaro, amava Marta, amava Maria e questo che Gesù compie, questa rianimazione dell'amico Lazzaro è un miracolo che lui pone dentro un contesto di amore, piange, guarda come lo amava, dicono i presenti, e piangono, piangono tutti, piange anche Gesù, ma dentro questa situazione c'è una parola di Dio, c'è una salvezza, c'è un segno che viene posto perché noi possiamo fare riferimento a questo segno e continuare a sperare, continuare a vivere, ma se vogliamo continuare a vivere da risorti dobbiamo fare riferimento a Lui. Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà e chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. E allora la nostra speranza è Gesù Cristo che ci salva dentro una situazione di morte, ci salva nella morte e ci proietta in una risurrezione, in una vita eterna senza fine. Pace bene amici a risentirci. stava tate dolorosa Grazie a tutti.